ed eccoci qua cari amici qua appassionati qua di vecchie lancia insomma abbiamo qua una lancia delta non è magari la super presata però comunque sempre una lancia insomma quei modelli che ci ricordano un po la nostra gioventù la gioventù del marvi in 20 30 anni quando si sognava di avere queste auto qua guardate qua eccezionale eccezionale lancia punto hf niente la dedichiamo qua il bravo e bravo renzo è un po un possessore di lancia e niente ragazzi eccola qua siamo qua in un garage mi sembrava giusto portarla a casa anche questa è l'altro mondo è marventura e questo entri nei garage quello che quello che offre offre non è che bisogna per forza portare a casa pezzo super pregiato anche se questa lancia comunque a me piace eccolo qua spettacolo ragazzi guardate qua sono una bella lancia messa qua da parte nel garage eccola qua spettacolo ragazzi bravissimo grazie eccola qua abbiamo visionato c'è un po la gomma a terra però niente insomma ci può stare ci può stare e niente eccola qua bravissimo grazie quadra diretta adesso si copre un saluto tutti gli appassionati di auto storiche e niente a questo punto dato che la diretta c'è insomma guardate qua insomma guardate qua appassionato come piace a noi dico sempre ragazzi guardate qua una lancia fulvia insomma conservata insomma è un po sporca è la polvere la polvere farà padrona come vedete però questo questo marventura eccola qua spettacolo guardate qua una lancia fulvia insomma bella polverata però l'importante che c'è insomma qua sotto è ferma da un bel po di tempo vedo però l'importante che c'è stata recuperata non è andato al demolitore che insomma esatto qua le auto ai demolitori non si mandano eccola qua spettacolo ragazzi ringraziamo qua bravo emilio conosciuto così perché il vecchio marvin stava filmando un vecchio 170 in completo stato di degrado abbandono anzi pensava che ero uno che era venuto interessarsi per lo spostamento del camion in abbandono pazzesco guardate qua cosa poi esce questi sono i marventure così la secca improvvisata no maps no googles guardate qua spettacolo non dimentico totale ragazzi dai un saluto a tutti gli appassionati quelli vecchia lancia salutiamo che bravo ernesto ernesto il nostro amico ernesto il nostro amico romano trentino ernesto appassionato di treni ma insomma ciclopedia la voce del sapere delle vecchie auto storiche ragazzi ciao a tutti saluto anche l'amico thomas rené club vita la vecchia jo ciao a tutti spettacolo ciao